Si è parlato spesso di antenne elettromagnetiche, le antenne per la telefonia mobile che possono arrecare danni alla salute. Adesso è stato installato un nuovo sistema 4G a Monte di Procida. Il professore Pasquino, che fa parte del tavolo tecnico, dice che non sapeva niente e forse il posto meno adatto dove installarla? No, assolutamente. A me non risulta che il professore Pasquino abbia detto questo. Noi con un tavolo tecnico e con la Commissione Ambiente, e voglio ringraziare l'assessore Teresa Coppola, il vice sindaco e il presidente della Commissione, tra basso che hanno seguito con grande attenzione questa materia, ma anche l'opposizione che sta dando un contributo fattivo e concreto, noi abbiamo avviato un lungo percorso di confronto. Il confronto ha visto anche la partecipazione del professor Pasquino. Abbiamo individuato sul territorio delle aree perché, vedete, Monte di Procida soffre della mancanza di antenne. Oggi, nel 2017, dove negli altri comuni ci sono tutti gli operatori, Monte di Procida aveva un solo operatore. Tra l'altro aveva un operatore con un impianto GSM vecchio. Noi abbiamo concordato di spalmare il segnale su tutto il paese, di abbassarlo e di controllarlo. Tutti i soldi che riceveremo per le antenne saranno spese in monitoraggio ambientale. Quindi, io penso, un percorso trasparente, condiviso con le opposizioni, io credo inattaccabile. Un percorso che guarda la salute dei cittadini. Una cosa, però, importante precisarla. In via Bellavista, anche lì si è creato un polverone, in via Bellavista si è fatto un semplice upgrade della stazione esistente. Prima di fare questo, però, io per trasparenza e per chiarezza, ho voluto chiamare la Commissione ed informare tutti. Quindi, diciamo, le opposizioni erano ben informate di questa cosa, perché in Commissione e Abbiente ne abbiamo parlato, ma trattandosi di un semplice upgrade tecnologico. È stata tolta l'antenna vecchia, messa l'antenna nuova, quindi, diciamo, non c'è stato nessun peggioramento della situazione. Perché noi siamo consapevoli che via Bellavista, già operata da diverse installazioni, non deve essere sovraccaricata ulteriormente. Quindi noi non la sovraccaricheremo, però era necessario dare il 4G. Tant'è vero, sono decine, centinaia di ragazzi, giovani, soprattutto, che mi stanno ringraziando, perché oggi si è connessi, soprattutto con smartphone, anche per lavoro. E questa era un'attività necessaria. A breve installeranno in altre postazioni, proprio nella mia stanza, proprio sulla mia testa, l'antenna Wind 3. L'antenna Wind 3 che ci consentirà di aprirci ad un altro operatore. Cosa grave per i nostri esercizi commerciali. Li abbiamo visti protestare per via Torre Cavida, li abbiamo visti lamentarsi più volte, hanno ragione, c'è la crisi, è una crisi internazionale, che è a riverberi anche a livello locale. Però consideriamo che la crisi locale è esasperata da questa cosa, perché il medico, il professionista o il giovane che viene a Monte di Procida, c'è Vodafone 3, Wind, o qualche altro operatore che non sia team, viene a Monte di Procida e dice Monte di Procida è un paese sfortunato, dove prende solo team, non ci tornerò più, non ci tornerò a mangiare il panino, non ci tornerò a fittare il gommone, non ci tornerò a fare una passeggiata acqua morta, non ci tornerò a prendere il gelato. Quindi io sento in tutta responsabilità, in tutta coscienza, che stiamo facendo un'ottima operazione anche per rilanciare l'economia locale e soprattutto garantisco personalmente che i livelli in monitoraggio ambientale saranno costantemente e saranno continuamente monitorati i livelli di emissioni elettromagnetiche.